Siamo con il sindaco di Cupra, Domenico D'Annibali, un mesetto fa. Ci siamo sentiti e la sua proposta era appunto quella di un ospedale di primo livello sulla costa e di un ospedale di base ad Ascoli. Posizione che sembra abbia fatto proseguida, anche il sindaco di San Benedetto si è mosso in questo senso e il presidente della regione ha confermato che è un'ipotesi fattibile. Ovviamente a questo punto la partita si sposa all'interno della provincia, secondo lei questa posizione può essere maggioranza in vista di una possibile discussione della conferenza dei sindaci e Ascoli secondo lei come si muoverà su questo piano? Allora io innanzitutto sono felice che c'è un consenso anche da parte di altri sindaci, innanzitutto siamo riusciti nell'ambito 21 quindi ad avere una uniformità di intenti da parte di tutti quanti i sindaci perché capiamo l'importanza di avere una sanità per tutto il territorio, indipendentemente dal campanile come qualcuno sta cercando di svendolare. Io penso che a questo punto ci sia la possibilità di riaprire il discorso e quindi c'è anche, adesso abbiamo richiesto una conferenza dei sindaci per poter ridiscutere e mettere sul piatto la possibilità di avere due ospedali nel nostro territorio. Per quanto riguarda appunto quella domanda che mi stavi facendo riguardo alla posizione di Ascoli, beh io dico che anche il sindaco di Ascoli e anche tutti quanti, anche i sindaci dell'entroterra, avere un ospedale ad Ascoli è anche qualcosa di importante per loro. Però certamente io penso che Castelli sta forzando un pochino la mano cercando di richiedere l'azienda ospedaliera, no, Marche Sud. Cioè su questo possiamo ragionare e se magari c'è la possibilità perché in Vindeconti c'è anche una certa mobilità attiva sul nostro territorio, quindi voglio dire, magari partire con due ospedali, uno di primo livello, un altro di base, rafforzando anche quello che si stende al Mazzoni, io penso che noi andiamo a dare una sanità migliore per tutti i cittadini e i flussi di utenza che vanno verso Ascoli e vanno verso San Benedetto noi riusciamo a soddisfare le esigenze di tutti quanti i cittadini. Pertanto voglio dire, è questa la strada che dobbiamo percorrere. Poi dopo, se c'è la possibilità di poter fare anche l'azienda ospedaliera Marche Sud, io posso anche essere d'accordo perché in Vindeconti abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare.